Nel cuore di Times Square c'è una storia incredibile un italo coreano che ha aperto una catena Angelina Bakery negli Stati Uniti e si sta espandendo anche oltre parliamo di Tony Park dal nome e della fisionomia coreana ma dal cuore dalla lingua italiana perché Tony Park ha tutta la sua esperienza che ce la facciamo raccontare da dove vieni da Palermo raccontaci un attimo com'è nata l'idea di Angelina Bakery in America? Io ho lavorato, sono nato, sono cresciuto a Palermo e ho sempre lavorato in rosticcerie, paninerie, ristoranti, ho fatto l'alberghiero, ho fatto l'estate a Rimini, a Roma, un po' dappertutto e poi quando sono venuto qua volevo fare il bar italiano dove prendi l'espresso, il cornetto, il bombolone, le cose che ti mancano, abbiamo aperto il nostro primo negozio cinque anni fa e adesso abbiamo tre negozi aperti e stiamo aprendo altri sei negozi da adesso fino alla fine dell'estate, quindi avremo dieci negozi per la fine dell'anno. Ti manca qualcosa dell'Italia e della tua Palermo? Le stighiole, il pane con la milza, le cose che non si possono trovare qua o che non sono ancora completamente legali. Ma li puoi esportare per qualche anno nei tuoi locali? No, non penso, penso che gli americani le stighiole non se le mangiano.